Furto con scasso, derubato il bancomat della filiale della BCC Aquara in viale della Repubblica Capaccio Pestum. I ladri avrebbero agito intorno alle 3 di notte facendo saltare in aria lo sportello automatico probabilmente utilizzando dell'esplosivo. Infatti si è udito un botto fragoroso che ha fatto svegliare molti residenti. I delinquenti sono entrati all'interno della banca dopo aver forzato la porta dell'uscita di sicurezza. Hanno preso velocemente i soldi, oltre 20.000 euro, e con guanti e volto coperto grazie ad un complice che a bordo di un'auto di grossa cilindrata sono fuggiti. Il tutto in circa 4 minuti. A seguito delle segnalazioni pervenute dalla centrale operativa dell'impianto di sicurezza sono giunti sul posto i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, diretti dal luogo tenente Serafino Palumbo a coordinare le indagini militari della compagnia di Agropoli e gli ordini del capitano Francesco Manna. Gli inquirenti hanno eseguito tutti i rilievi del caso, prelevando anche le immagini del sistema di videosorveglianza della banca. Questa mattina il direttore della filiare Raffaele Lettieri ha confermato che è in corso l'inventario dei danni e del furto subito.